Il Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, il Prosecco superiore, in questo momento sta attirando l'attenzione di un sistema Italia, proprio perché Conegliano-Valdobbiadene è il luogo dove è nato il successo del Prosecco e il Prosecco rappresenta un esempio di successo dell'italianità nel mondo. Credo che con la presenza del Ministro Alfano stasera e in modo particolare con tutti i dirigenti della Farnesina si voglia testimoniare che il Prosecco superiore di Conegliano-Valdobbiadene sia l'eccellenza della bollicina italiana nel mondo. Credo che questo sia un passaggio estremamente importante sul quale noi chiediamo veramente una sinergia con tutte le ambasciate italiane nel mondo e gli istituti di cultura italiana nel mondo proprio perché raccontino questo territorio, raccontino questo esempio di successo nel mondo del vino italiano. Penso sia la prima volta che un Ministro della Repubblica italiana venga in forma istituzionale a trovare gli amministratori, in particolare il Sindaco del Comune di Follina. Il Ministro aveva assunto con il sottoscritto un impegno ancora due anni fa, ci eravamo trovati a Treviso e mi ha detto, sai, prima o dopo verrò anche a trovarti a Treviso. L'ha mantenuto la promessa, come è solito fare però. Il Prosecco ormai è un viatico per propagandare il nostro territorio. Abbiamo appena fatto la richiesta di essere candidati come area UNESCO per cui tutto ciò è stato importato nello sviluppo turistico della nostra area.